La mia azienda è nel comune di Barolo, è un'azienda che è nata nel 1890, sono alla quarta generazione, è un'azienda molto tradizionale, produciamo vini legati al territorio, da un arnese, l'unico vino bianco di riferimento della zona delle Langhe, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo e quattro tipologie di Barolo, un Barolo 5 vigne che è un blend di cinque comuni differenti e quattro selezioni, liste Canubi, Cerequio e Brunate. Io sto presentando il vino più importante per l'azienda, il Cru per eccellenza, il Canubi, uno dei cru più storici e più importanti nel mondo del Barolo. Il Barolo è un vino molto importante, quindi va abbinato con dei piatti molto importanti, principalmente le carni, brasiata al Barolo è uno dei piatti forti per cui si lega il Barolo. Sicuramente è una gran bella piazza dove come azienda ci teniamo ad essere presenti, perché comunque è frequentata da una tipologia di persone molto importanti da tutto il mondo, il Jet Set internazionale frequenta molto questa area, molto famosa e quindi ci fa piacere essere essere qua a questo evento molto importanti. Beh, è un'area molto molto suggestiva, molto bella, affascinante, è un mare stupendo, paesaggio altrettanto stupendo. Io arrivo da un'altra bellissima località, due posti molto differenti, ma sicuramente devo dire che qua si viene molto molto volentieri.